Buongiorno a tutti i fan, chiamiamoli così, di Sottosopra. Oggi parliamo di Libia e ne parliamo con una persona che ne sa molto, Federica Saini Casanotti, che oltre che essere analista per l'ISPI e per la Brookings Institution di Washington, ha un'esperienza personale che deriva dai suoi studi, ma anche più recentemente dal suo ruolo relativo alla Libia, che è sicuramente molto interessante. Intanto buongiorno a Federica Saini Casanotti. Buongiorno a lei e a tutti i vostri ascoltatori e osservatori. Grazie per il tempo che ci dedica e non solo il tempo. Partendo da questa esperienza, lei ha avuto l'onere e l'onore di fare da consulente proprio sulla Libia e sui problemi della sicurezza e del terrorismo in Libia per James Mattis, il capo del Pentagono, cioè il ministro della difesa americano e poi di relazionare proprio sempre sulla Libia e sui problemi della sicurezza in Libia davanti niente meno che al congresso americano. Se ci vuole raccontare un po' di queste esperienze, anche dal punto di vista personale, credo che parlare al congresso non sia cosa di tutti i giorni. No, no, assolutamente. È stata una fortuna e un onore incredibile. Assolutamente inaspettato perché la mail di uno dei collaboratori, di uno dei congressman è arrivata così. Io pensavo all'inizio fosse uno scherzo, invece sa tipo Candy Camera. Invece era una cosa vera e sono stata chiamata, in realtà ho testimoniato davanti al congresso americano una sola volta, però per ora sono stata chiamata già due e una testimonianza, quella cui purtroppo non ho potuto presenziare, era veramente costruita sulla mia tesi del federalismo e quindi mi è dispiaciuto tantissimo. Quindi gli americani ci ascoltano, ecco, magari a volte non sembra, però sono estremamente attenti, molto di più purtroppo degli italiani, devo dire, per la mia esperienza. Cioè io ho collaborato molto di più con gli Stati Uniti piuttosto che con l'Italia, dove io peraltro vivo, vivendo a Milano e avendo vissuto tra l'altro sopra la Farnesina per tantissimi anni, per 15 anni a Roma. Quindi questo. E poi dopo la chiamata al congresso è arrivata, la cui testimonianza peraltro si può vedere ancora sul canale SISPAN, che è il grande canale della politica americana. Dopo di questo sono stata chiamata dal segretario della difesa James Mattis, Jim, che è un Marine a quattro stelle, che ha comandato di tutto e di più e col quale avevo già avuto, come dire, un rapporto intellettuale, perché io non l'avevo mai incontrato, ma mi aveva aiutato per redarre l'indice del mio spero prossimo libro sulle dottrine di controguerriglia, moderne occidentali. Quindi insomma si era restaurato questa amicizia intellettuale, un po' storica, militare e così via. E quando è stato il momento poi di avere una visione un po' diversa e un po' più articolata, perché io sono una storica in realtà che si occupa di guerre asimmetriche sulla Libia, allora mi ha chiamata e ho iniziato a prima briefare, come dicono loro, le sue seconde linee e poi sono arrivata ad aiutarlo, l'ho incontrato un paio di volte e poi purtroppo lui ha dato le dimissioni e quindi è finita lì. Ok, e gli americani poi naturalmente verremo all'Italia e tutti i nostri problemi con la Libia, ma gli americani anche loro negli ultimi anni hanno accumulato un'esperienza notevole e non sempre felice di cose libiche, tra assalti ai consolati, mail più o meno sparite, insomma, ma gli americani hanno oggi una posizione sulla Libia, un'idea di che cosa si dovrebbe o si potrebbe fare in Libia? Beh, ce lo chiediamo in realtà tutti, io ho tantissimi colleghi americani, libici, insomma che vivono comunque negli Stati Uniti e non ci è molto chiaro, non è chiaro a nessuno, nel senso che la visione è una visione non omogenea, perché una cosa è quello che dice la Casa Bianca e lo abbiamo visto anche immediatamente dopo l'assedio, l'inizio dell'assedio nell'aprile del 2019 da parte del maresciallo di campo Haftar, parte cirenaica che ha attaccato Tripoli, lo dico velocemente per i vostri ascoltatori, quindi una Casa Bianca che fa i complimenti ad Haftar per questa specie di colpo di mano che in realtà è stata una cosa allucinante e poi invece sia lo State Department, cioè il corrispondente del nostro Ministero della Difesa, sia il Pentagono, cioè il corrispondente del nostro Ministero della Difesa e Ministero degli Esteri, hanno preso una linea completamente diversa, molto più simile agli europei, quindi secondo me non c'è una vera e propria linea, i tecnici, quelli dei Ministeri sanno più o meno che cosa andrebbe fatto in Libia e questo io ho avuto modo di vederlo proprio relazionandomi con Mattis, ma il problema è il Presidente, perché il Presidente è il comandante in capo e decide e quindi in questo caso Trump già dall'aprile del 2017, quando io mi ricordo il nostro allora segretario della Difesa, sì sì, buonanotte, oggi sono un po' con i ministri, sono un po' fuori, comunque il nostro ex primo ministro, mi ricordo che davanti al tema libico che Gentiloni gli pose e gli mise sul piatto, Trump disse no, io assolutamente non sono interessato al tema Libia, se non che per il terrorismo e da allora sino ad oggi l'interesse degli americani per la Libia è un interesse prettamente tattico e che riguarda proprio il terrorismo e il jihadismo, diciamo, dal Qaeda, ISIS e poi tutta la costellazione ovviamente del jihadismo in Africa, però ecco non c'è effettivamente una strategia ancora oggi negli Stati Uniti, manca e se devo pensare a una possibile, abbiamo 50% di possibilità vittoria di Biden, non credo che quantomeno all'inizio cambierà molto francamente per quanto riguarda la Libia. Quindi strategia no, gli americani secondo me sono ancora molto lontani, addirittura hanno levato, stanno togliendo uomini ad Africom che è il comando americano in Africa e che ha un valore strategico fondamentale. Togliendo uomini ad Africom si diminuisce la portata di spinta a livello geopolitico degli Stati Uniti nel continente e quel vuoto viene lasciato libero ad altri, perché si muovono altri competitors, in primis la Cina che è iperattiva in una maniera completamente diversa non militare in Africa e ovviamente alla Russia che invece si sta allargando e si sta radicando in varie nazioni africane attraverso uno stile che è chiarissimo per noi analisti militari per poi appunto lasciare spazio al business e al commercio. Quindi e ovviamente non solo a quello ma anche all'influenza geopolitica che è fondamentale, anche perché l'Africa, soprattutto il Maghreb, è di fronte all'Europa. Il Maghreb e la Libia naturalmente di fronte all'Europa, abbiamo detto degli Stati Uniti, ma l'Europa ce l'ha un pensiero sulla Libia e sulla sponda sud del Mediterraneo che in Libia ha al suo punto forse più… perché per dire due paesi che sono vicini in Europa per tante ragioni non solo geografiche come Italia e Francia a un certo punto almeno teoricamente ci sono trovate sulle sponde opposte di due fazioni in guerra, cioè la Francia a sostenere Aftar e noi a sostenere le ragioni di Al-Sarraj. Quindi l'Europa c'è, non c'è o c'è in maniere molto diverse a seconda dei paesi? Direi quest'ultimo punto, cioè l'Europa c'è ma ha delle priorità nazionali che sono molto diverse o comunque l'attuazione della tattica per attuare la strategia dei singoli paesi europei è molto diversa. Se noi prendiamo ad esempio la Francia e l'Italia vediamo che le priorità geopolitiche sono le stesse più o meno e riguardano il terrorismo, riguardano l'energia e l'immigrazione, quindi sono questi tre punti, ma poi vengono attuate tattiche completamente diverse. La Francia di Macron ha deciso di appoggiare non chiaramente, non ufficialmente questo è un dato di fatto Aftar, ultimamente sembra essersene pentita, sembra essersi pentita di aver scommesso sul cavallo non certo vincente, però ha fatto un grandissimo danno, alla comunità internazionale, più che altro alle Nazioni Unite in questo caso e alla missione delle Nazioni Unite per la Libia. Quindi l'Europa c'è ma non del tutto e poi non c'è una vera e propria strategia continentale, cioè europea per la Libia, ci sono tante voci, tante lingue siamo diversissimi e quindi anche il nostro modo di approcciarci ai problemi geopolitici è molto diverso e questo è proprio una questione anche antropologica secondo me. l'Italia è sempre stata dalla parte del GNE, GNE diciamo del governo di accordo nazionale che ha sede a Tripoli con il primo ministro che è Al Serraj e che è come dire una bravissima persona ma che alla fine credo che anche lui si sia un po' stufato, proprio di poche settimane fa l'annuncio delle sue dimissioni che prima o poi dovrebbero essere quando il paese sarà pronto, dice lui, questo è tipico libico, quando sarà il momento darà le dimissioni. Tante cose stanno avvenendo in Libia e anche all'estero riguardo alla Libia in questi giorni vedremo cosa succederà. Tra le tante cose che sono avvenute in Libia ultimamente c'è anche questa tregua che è stata in qualche modo, dopo diversi tentativi andati a monte, è stata siglata, sembra più o meno reggere, dovrebbe essere seguita proprio nei primi giorni di novembre da tutta una serie di ulteriori passi. Possiamo credere in questa tregua? Che senso ha questa tregua? Perché i due contendenti si sono decisi a questo passo? Noi mi riferisco a me e alla maggior parte dei miei colleghi che si occupano di Libia sia in Italia che all'estero e i libici stessi tra l'altro siamo tutti abbastanza sospettosi. La Libia ormai questi quasi dieci anni di conflitto ci hanno insegnato che purtroppo la pace è qualcosa di molto difficile da raggiungere, soprattutto quando gli abitanti del paese che cerca la pace non sono effettivamente convinti di volerla. Quindi questo è un ottimo passo sicuramente che segue tutto quel processo che era iniziato a gennaio con la conferenza di Berlino organizzata da Angela Merkel, che ha previsto in effetti tutta una serie di conferenze, incontri, meeting in vari e diversi disparati posti in tutto il mondo, quasi mai però praticamente in Libia e che ha visto proprio nei giorni scorsi finalmente nella sede delle Nazioni Unite a Ginevra la firma di questo mitico accordo da parte della Commissione Congiunta Militare formata da 5 advisor provenienti dalla Cirenaica e da 5 provenienti dalla Tripolitania, che appunto ha previsto come base iniziale una tregua, un cessato il fuoco definitivo, perché dobbiamo ricordare che si combatteva dal 4 di aprile del 2019 e tutta una serie di punti che dovrebbero essere implementati in seguito a questo cessato il fuoco, che permetterebbe ovviamente tutta una serie di manovre. I punti sono 5 più 12, quindi 17 e riguardano vari settori, prevalentemente però sono quasi tutti militari ed ecco perché noi analisti siamo un po' così dubbiosi e non del tutto certi che questa tregua potrà poi essere seguita da fatti veramente di rilievo. Si prevede per esempio che venga istituita una sorta di forza militare limitata inquadrata in una sorta di sala operativa congiunta, quindi con tutti e due i contendenti presenti a livello militare che si occupi del disarmo del paese e della riorganizzazione, dell'identificazione di tutti gli armati e della riorganizzazione delle milizie a cui questi armati fanno parte. ce la faranno? Questo è il grande punto perché in realtà le milizie ormai hanno trovato un proprio humus sociale, una propria realizzazione economica e quindi è difficilissimo che le milizie spontaneamente cedano le armi. Quanto questa forza militare libica limitata e piccola sarà in grado di far valere le regole definite dalle Nazioni Unite e dai rappresentanti libici? Questo è il grande dubbio che tutti noi abbiamo, ovviamente che è assolutamente legittimo. Ancora una domanda di scenario in qualche modo e poi veniamo più vicini a noi. Abbiamo detto che gli Stati Uniti in qualche modo non ci sono, l'Europa in qualche modo non c'è, le Nazioni Unite anche loro si sono più o meno ritirate da tempo. Questa specie di imbuto vuoto ha attirato due protagonisti molto attivi sulla scena internazionale che sembrano un po' bibì e bibò perché non si capisce se ci sono o ci fanno, che sono la Russia e la Turchia. Sono sempre teoricamente nemici ma alla fine sembrano più due che si intendono che due che si combattono. Qual è il ruolo di questi due attori in questo momento e quali sono le prospettive? La Turchia poi in particolare sta facendo di tutto e di più in Libia, nel Mediterraneo e non solo lì. Allora sì, diciamo che a entrambi i paesi conviene collaborare piuttosto che farsi la guerra, quindi questo è un dato di fatto e sono certa che faranno di tutto per continuare su questa strada. La Turchia in Libia ha avuto un ruolo fondamentale che è quello che poi l'Europa non ha avuto e non è stata in grado di avere perché si è comportata in maniera molto aggressiva se vogliamo, seguendo dei principi di Realpolitik. Serraj durante l'assedio, in un determinato momento dell'assedio di Tripoli per cercare di bloccare l'assedio stesso, non sapendo più che cosa fare, è andato a chiedere aiuto a vari rappresentanti delle nazioni europee, ma anche agli Stati Uniti, io me lo ricordo molto bene e tutti gli hanno girato le spalle perché nessuno aveva intenzione di entrare in Libia, perché questo è il grande problema, si sa che la Libia può essere, noi italiani lo sappiamo bene, storicamente una palude da cui è difficile uscire e quindi tutti insomma hanno puntato sulla carta della diplomazia che però in quel momento non funzionava e non valeva perché Tripoli era sotto assedio e bombardata. La Turchia dopo aver firmato un accordo per l'appunto connesso come diceva lei prima a tutta una serie di dinamiche legate all'energia, al gas nel Mediterraneo orientale, dopo aver firmato con la Libia una specie di memorandum che concedeva da parte della Libia l'accettazione di una determinata zona del Mediterraneo alla Turchia, dopo questo la Turchia è intervenuta proprio militarmente in maniera ufficiale non tanto con proprio uomini quanto con truppe mercenarie di base, in questo caso siriane. Ma non solo, la Turchia aveva appoggiato già il GNA in maniera pratica attraverso advisor turchi, questa volta provenienti dall'esercito turco e però quindi molto cherry picking, molto tecnici e professionali e soprattutto pochi e poi ovviamente fornendo droni, armi, jeep e macchine corazzate, quindi insomma dando un aiuto sostanziale. A questo punto nel momento in cui la Turchia è entrata così a gamba tesa, io credo che sarà molto difficile farla uscire, questo è un altro dei problemi che sono stati posti, che vengono posti da questa firma e da questo cessato il fuoco dello scorso 23 ottobre a Ginevra, cioè uno degli elementi, dei punti fondamentali di questo agreement riguarda proprio il ritiro di tutte le truppe straniere dal territorio libico, questo avverrà, questo è il dubbio grosso che tutti noi che osserviamo il paese da tanti anni abbiamo in questo momento, perché ci sembra molto difficile che dopo un simile investimento in termini non soltanto economici, ma anche proprio di investimento proprio propagandistico da parte di Erdogan all'interno del suo paese, noi sappiamo che Erdogan ha difficoltà grosse anche a livello economico, la Turchia di oggi non è più quella di dieci anni fa e quindi alcuni atti, alcuni gesti molto aggressivi di Erdogan sul Mediterraneo sono proprio atti a ottenere un certo tipo di consenso nazionale e a compattare il paese verso di sé. Quindi mi sembra almeno personalmente molto difficile che Erdogan se ne vada e decida di non influenzare più il paese in questo momento. Stessa cosa dicasi per i russi, i russi hanno attuato una strategia molto chiara che stanno attuando in tutta l'Africa, in alcune parti dell'Africa, in primis la Libia, ma anche il Sudan, la Repubblica Centroafricana di contrasto agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono molto presenti con Africom, sempre di meno purtroppo si diceva prima, però insomma hanno un grosso rilievo sia nella zona del Corno d'Africa per il controllo del Golfo di Aden, sia del Mar Rosso anche e sia ovviamente nel Sahel anche in unione alle truppe francesi, alle missioni francesi. La Turchia è un ottimo ponte per arrivare a parlare dell'Italia, perché l'ultima notizia che abbiamo avuto è che adesso la Turchia ha in qualche modo preso il controllo, il coordinamento di questa cosiddetta guardia costiera libica, così tanto criticata. Facendo un passo indietro, io ricordo il momento in cui Al Sarraj praticamente faceva il giro delle sette chiese per chiedere aiuto e chiedeva aiuto, era chiaro che cosa chiedeva, cioè se no un esercito in appoggio almeno delle armi, delle mazze, dei randelli per poter qualcosa di concreto per cercare di respingere Haftar che in quel momento sembrava un passo dalla vittoria finale. Ecco, l'Italia è tra i paesi che, come ha detto lei un attimo fa, gli hanno girato le spalle o quasi, o che comunque gli hanno dato molte più parole che fatti. Che cosa avrebbe dovuto fare l'Italia? E lo dico perché, lo chiedo anzi, perché la politica italiana in Libia, che ha avuto forse un suo momento di definizione all'epoca del governo Gentiloni, ministro degli interni Minniti, da allora compresi i partiti che sostenevano quel governo e di cui Gentiloni e Minniti erano a sonno espressione, questa politica dell'Italia in Libia è stata assolutamente criticata. Sembrava che noi ci compromettessimo con i trafficanti di uomini, con i trafficanti insomma, tutti sappiamo l'acqua che è scorsa sotto i ponti, però se l'Italia sostiene un governo come quello di Al-Sarraj, che è l'unico governo internazionalmente riconosciuto peraltro, che cosa deve fare? Cioè, potevamo fare qualcosa di diverso, potevamo impegnarci un pochino di più, potevamo dargli delle armi, non lo so, potevamo fare qualcosa di diverso e corollario di questa domanda, un paese come l'Italia può assumersi certi ruoli ancora oppure ha completamente rinunciato? Io sto pensando alla Libia, cioè abbiamo delegato tutto all'Unione Europea, all'ONU, insomma praticamente a chiunque, oppure abbiamo ancora qualcosa da dire in contesti come quello libico e diciamo soprattutto con la Libia che è qui a un passo. Ma dunque non sta a me dire come deve essere la strategia del Ministero degli Affari Esteri, io da osservatrice posso però dire che bisogna, allora l'Italia è stata sempre molto diversamente diversamente da altre nazioni europee e non solo europee, è stata molto, come dire, non ha tradito se stessa, cioè lei ha detto ok va bene, allora decidiamo con gli accordi di Schirat un governo riconosciuto da tutta la comunità internazionale, cioè dalle Nazioni Unite come quello presieduto da Al-Serraj, il GNA con sede a Tripoli e da questo momento noi facciamo di tutto per appoggiarlo. L'Italia però non crede nello scontro armato di base e quindi il mantra che noi abbiamo sentito sempre, se lo ricorderà anche lei, era quello della soluzione politica e non di quella militare. Il problema è che è assolutamente assurdo parlare di una soluzione politica quando in realtà la capitale è sotto bombardamento. Appunto, è questo che volevo sottolineare, cioè benissimo non abbiamo tradito noi stessi, però nel momento in cui su Al-Serraj, che è teoricamente il nostro amico, piovono le bombe, se non lo aiuti. Questa è la mia idea ovviamente, poi sicuramente il Ministero degli Affari Esteri avrà un'altra visione certamente. È sempre difficile e antipatico diciamo mettersi e dire io avrei fatto così perché poi bisogna trovarsi nella situazione. Io mi ricordo quando ho fatto consulenza al segretario Mattis e dopo avergli spiegato tutte le dinamiche libiche e così via, a un certo punto lui mi ha guardato e mi ha detto voglio la soluzione. E a quel punto io gli ho detto ma la soluzione, aspetta, no tu mi devi dare la soluzione. Quindi è facile dire io farei così, però poi quando ci si trova effettivamente lì come è successo a me, ecco perché quindi sono abbastanza rispettosa della fatica altrui, dico bisogna stare attenti perché poi bisogna avere tutte le carte sul tavolo che io in questo momento rispetto ai servizi segreti attivi in Libia, all'ambasciata eccetera eccetera non ho. Quindi questo è un dato di fatto. Da strategist come si dice nel mio mondo, nel mio think tank e da conoscitrice insomma studiosa di Libia direi che a volte ogni tanto essere come dire impositivi e un po' più aggressivi serve soprattutto in questo mondo che è un mondo di attori internazionali molto aggressivi e che giocano senza, come dire, proprio senza remore in ogni scacchiere. E i russi sono veramente l'esempio più classico. Noi dobbiamo pensare che quando ci relazioniamo davanti a un antagonista che sia militare, che sia politico dobbiamo purtroppo, quantomeno all'inizio, nel momento in cui noi siamo reattivi e non proattivi, cioè nel momento nostro di risposta se non siamo noi che abbiamo dato il là a qualunque tipo di azione, sia diplomatica che politica che militare, noi dobbiamo adeguarci al linguaggio del nostro antagonista. Questo è il tema che secondo me è stato capito dalla nostra leadership in generale. E quindi sì, io avrei puntato di più i piedi, avrei fatto sicuramente più rumore. La consegna delle armi, anche lì è molto delicato perché la consegna delle armi ai libici in quel momento avrebbe scardinato da parte dell'Italia, che è un attore internazionale fair, diciamo per bene, avrebbe scardinato quello che è l'embargo delle armi che vige dal 2011 e che è stato rinnovato varie volte. Quindi anche lì consegnare le armi non è corretto. Lì si sarebbe dovuto mandare ovviamente incrementare il contingente che noi abbiamo già lì presente, e si sarebbe insomma dovuto chiudere e bloccare la città di Tripoli e aiutare i libici a difenderla. Però è una mossa che nessuno ha fatto effettivamente se non i turchi. È un modus operandi completamente diverso. Noi dobbiamo capire che se ci vogliamo, se vogliamo vincere le competizioni geopolitiche dobbiamo cambiare registro. Questo è il tema. Ci sono mille maniere per farlo, però bisogna cambiarlo. Ma lei è d'accordo con quello che dicono molti, cioè che in questo momento l'Italia, a conclusione di questo processo, l'Italia che ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle questioni libiche, diciamo nel bene e nel male, ma comunque sempre molto importante, ecco, adesso l'Italia è un interlocutore del tutto secondario per la questione lì. È appunto quello che le dicevo prima, cioè se noi dobbiamo combattere personaggi che utilizzano le mazze, noi non possiamo metterci davanti a loro con la penna, cioè non c'è competizione. E quindi questo è il mio tema, che bisognerebbe essere molto più aggressivi e spietati sotto tanti aspetti, il che non significa andare a bombardare le città o fare chissà che cosa, assolutamente no, però significa essere aggressivi. D'altro canto bisogna anche osservare i vari ministri e presidenti con i quali noi poi ci relazioniamo, perché Lavrov, come dire, l'ombroso che ha fatto storia sull'analisi, anche se poi non è stato, insomma, ormai non vale più, strasuperato eccetera eccetera, ma insomma l'analisi lombrosiana dei tratti morfologici dei visi e dei volti dice tanto. E se noi osserviamo bene Lavrov, che è il ministro degli affari esteri russo, molto ci può dire. Sono personaggi che hanno un bel pelo sullo stomaco, che non si fanno remore, che sono abituati ad agire in una determinata maniera e che sono aggressivissimi, ma basta vedere anche la gestione della Russia, proprio dello scacchiere libico, attraverso questi mercenari, questi gruppi militari che si muovono e che in realtà hanno completo sostegno da parte del Cremlino e fortissimi legami col Cremlino, ma che sono straordinariamente flessibili e sono, come dire, un asso nella manica pazzesco per Putin, perché più di una volta Lavrov l'ho sentito dire di persona proprio, ma noi, cioè il Wagner Group, che è proprio questo gruppo specifico operante e operativo in Libia, non è mica l'esercito russo. Noi non abbiamo nessun contatto con loro, nessuna connessione. Proprio poco tempo fa, durante un programma su Al Jazeera Arabic, avevo dall'altra parte un'analista russa, sono volate scintille ovviamente, perché quest'analista diceva che non c'è un solo singolo uomo del Wagner Group in Libia in questo momento. Questo succedeva la settimana scorsa, due settimane fa. Quindi, proprio menzogne, sapendo di mentire, propaganda e così via, quando ci sono le fotografie di Africom satellitari con i MIG proprio pronti a partire sulle piste del corridoio sirtico in Libia. Quindi, insomma, bisogna capire che noi abbiamo a che fare con questi personaggi che hanno una strategia molto precisa e molto chiara. La nostra leadership la conosce? Questa è la domanda. Le chiederei un'ultima cosa. Si parlava anche a seguito dei suoi studi e delle sue analisi di federalismo in Libia. Potrebbe essere la soluzione? Allora, al momento siamo talmente, come dire, agli esordi all'inizio. Il paese è talmente distrutto dopo dieci anni di guerra e di conflitti che il federalismo, come dire, è prematuro in questo momento. Perché noi dobbiamo arrivare a un processo elettorale che, peraltro, appunto, proprio a Ginevra è stato deciso fra 18 mesi. Dobbiamo arrivare quindi ad elezioni, dobbiamo arrivare a un inizio di Stato che ovviamente sarà centralizzato al momento e che avrà per capitale Tripoli per poi eventualmente pensare alla migliore forma di governo per la Libia. A mio parere, e le discussioni con i miei colleghi sono enormi, a mio parere è il federalismo. Io mi ricordo cinque anni fa quando ho iniziato a parlare seriamente attraverso il mio istituto a Washington di Libia e a scrivere di federalismo ci fu l'insurrezione da parte della maggior, così, da molti dei miei colleghi analisti perché tutti ritenevano che la Libia andasse invece, dovesse essere centralizzata. Invece, secondo me, conoscendo la storia libica, la Libia deve essere decentralizzata perché le differenze sono sostanziali, non soltanto all'interno delle tre regioni, quindi Cirenai, Caffezza e Tripolitania, ma all'interno di quelle stesse regioni, delle città, cioè ci sono, per esempio, non lo so, in Tripolitania, misurata sul mare, Zintan, sulle colline, che sono due mondi completamente diversi e che infatti sono sempre stati, anche in questi ultimi anni, in perenne tensione. Quindi, il federalismo non è ovviamente la ricetta per tutti i mali, ma è un'idea per rispettare le differenze che i libici hanno, effettive che durano da centinaia di anni e per far sì che ognuno in Libia si prenda le proprie responsabilità. Nel momento in cui abbiamo un federalismo spinto, come potrebbe essere, per esempio, quello sul sistema cantonale svizzero o dei lander tedesco, accidenti, chi ti governa che sta magari di fianco a casa tua, non dall'altra parte del paese. Ricordiamoci che la Libia è quasi tutta desertica ed è un paese grande quattro volte l'Italia. quindi è tutto molto diluito, è tutto molto più difficile. Raggiungere alcune città o altre è difficilissimo, non ci sono le strade, non ci sono le infrastrutture, non ci sono le ferrovie. Quindi, insomma, ricordiamoci che la Litoranea è stata uno degli ultimi accordi tra Gheddafi e Berlusconi, ma risale a pochi anni fa. Quindi la Libia è un paese da costruire nelle proprie infrastrutture ed ecco perché Turchi e Russi sono in zona, sono vicini, hanno già capito tutto. Ok, io la ringrazio molto, ringrazio molto Federica Saini-Fagianotti per essere stata ancora una volta con noi per questi incontri di Sottosopra. Le dico che se il Ministro della Difesa degli Stati Uniti mi chiedesse una soluzione mi verrebbe privi, quindi a tutta la mia comprensione e la ringrazio ancora una volta, davvero è stato come sempre un grande piacere. Anche per me, grazie mille, buon lavoro. A presto, buon lavoro a lei. Buon lavoro. Grazie mille.